La magia del Natale vive in Piazza Grande, con 32 casette di legno, la Grande Baita e un gigantesco albero di Natale alto ben 14 metri con 1800 luci a LED. Dal 18 novembre al 1 gennaio 2018 tornano infatti i mercatini di Natale, giunte la loro terza edizione. Abbiamo tantissimi articoli da regalo, oggettistica, addobbi natalizi, le palle di Natale, quindi davvero una ricerca anche degli espositori mirata non solo provenienti dal Tirolo ma anche da altre zone d'Italia e questo per noi è una grande soddisfazione aver raccolto l'adesione anche di tanti operatori non tirolesi. Un modo per attrarre pubblico che viene da fuori a tutti coloro che hanno già prenotato dei pacchetti anche di destinazione natalizia perché quest'anno abbiamo presentato il progetto Natale in Toscana, un gemellaggio con Montepulciano che prevede appunto una meta tra Arezzo e Montepulciano. È un modo per declinare il Natale in maniera toscana. Non mancherà ovviamente Babbo Natale che tornerà assieme ai suoi elfi nella casa all'interno del Palazzo di Fraternita. Il Palazzo di Fraternita è il palazzo di tutti, è un patrimonio della città di Arezzo quindi accoglie tutte le persone, tutte le famiglie cominciando da bambini. Poi è molto importante portare i bambini qua all'interno del palazzo perché i bambini possono prendere confidenza con questo libro della storia della città di Arezzo. Quindi benvengano i commercianti con le loro iniziative ma soprattutto benvenga anche tutta la popolazione compresa la famiglia e i nostri bambini. Il mercatino natalizio in sole tradizioni è riuscito ad inserire Arezzo tra le mete più gettonate del turismo natalizio in Toscana. I feedback sono molto molto positivi sia nei nostri canali social ma anche direttamente alle strutture ricettive. So che ci sono diversi gruppi che hanno già prenotato e molti singoli che comunque hanno deciso di fare un fine settimana ad Arezzo proprio per venire a visitare i mercatini Torese e la città del Natale che partirà la settimana successiva.